Tanto entusiasmo dopo questo risultato, non abbiamo fatto vacanze per cui i ragazzi sono stati sempre concentrati sulla palla a mano, abbiamo fatto degli allenamenti più fisici, quasi per mettere in pari chi non aveva partecipato a queste qualificazioni, però l'entusiasmo dato da questo risultato ci dà tanta tranquillità e non credo che i ragazzi si stiano rilassando perché sanno benissimo che devono lavorare su loro stessi e lo stiamo facendo, ma anche per i prossimi mesi perché poi i campionati europei che abbiamo conquistato li dobbiamo difendere. Sicuramente adesso l'obiettivo è ritornare un po' più sulla tecnica perché l'abbiamo non dico tralasciata, ma abbiamo seguito molto di più una strada che ci portava a un sistema di gioco per affrontare queste qualificazioni. Adesso abbiamo molto più tempo e cerchiamo in questi sistemi di gioco un grande miglioramento tecnico. Questo risultato ha dato tanta fiducia e secondo me si lavorerà con un'altra prospettiva. Ci sarà bisogno in questi mesi di avvicinamento anche degli incontri con avversari di pare età perché sì è vero che questi ragazzi hanno la fortuna di stare insieme e di fare un campionato di alto livello come quello della Silver, tuttavia non è uguale perché poi quando si va a giocare con i pari età bisogna anche giocare con la pressione, per cui non basterà fare il campionato di Silver quando sarà finita nostra intenzione di riuscire a fare almeno due tornei con altre nazionali. Noi non pensiamo ai punti, sicuramente però ci farà piacere cercare di migliorare il gioco e la possibilità di giocarci certe partite fino all'ultimo. Già questo un po' è avvenuto ma io sono fiducioso che i progressi nei giovani sono evidenti, sono lampanti per cui mi aspetto che giocheremo molte più partite punto a punto e questo comunque farà bene anche alla capacità di gestire le partite da parte di questi giovani ragazzi. Grazie a tutti!